Il roller vibrante di Quarzo Rosa di Theology è una novità assoluta perché, a differenza degli altri roller al quarzo che si trovano sul mercato, questo è dotato di una vibrazione sonica. Cosa vuol dire? Che ruotando leggermente la base appunto del roller parte la vibrazione, la sentite, sono 6.000 vibrazioni al minuto che vanno a stimolare in profondità la muscolatura con un effetto lifting immediatamente visibile. Adesso lo proveremo e il nostro consiglio è quello di provarlo su un lato del viso per vedere proprio la differenza rispetto all'altro, quindi come la pelle si solleva immediatamente. Rilasciamo, rilasciamo, premiamo e rilasciamo la differenza rispetto all'altro lato del viso. Quindi, se guardiamo, qui è più basso, qui è più alto e più scolpito.